Soltanto qualche giorno fa la diretta di Nicola Pastore nel nostro Tg da Masseria Capitignani in degrado e circondata colpevolmente da Sterpaglie, quella che potrebbe essere davvero un'eccellenza urbanistica e architettonica nel cuore del quartiere Tramontoni-Talsano ricade in una proprietà privata, ma l'implacabile occhio della telecamera ha messo in evidenza le zone circostanti. Ebbene, soltanto due giorni dopo, la radicale pulizia di quegli spazi da parte dei mezzi di chimambiente. Ora però sarebbe il caso, e questo naturalmente tocca ad altri, che la masseria, vera testimonianza del nostro passato, possa essere interessata da qualche progetto di riqualificazione. Giuseppe intanto ci scrive per il mercato Fadini, bagni chiusi da oltre un mese, come si vede nelle immagini allargati. E noi forniamo la notizia e le immagini a chi di dovere, con la speranza che si possa intervenire e con tempestività.